La ceramica Flaminia produce articoli sanitari in ceramica nel distretto di Città Castellana da 70 anni. Nel corso degli ultimi anni c'è stata un'evoluzione di innovazione per la produzione, ci siamo rivolti alla Sacmi per attuare queste innovazioni che hanno spaziato dalla smaltatura, dal colaggio fino all'innovazione più estrema che riguarda il discorso della decorazione dei sanitari. Flaminia ha come obiettivo quello di produrre sanitari di qualità con un'innovazione estetica di primordine e pertanto ci servivano delle tecnologie che avessero una base di flessibilità non indifferente perché non siamo produttori di quantità ma di qualità. Un ulteriore elemento di collaborazione con Sacmi è quello della sostenibilità ambientale ed abbiamo implementato un primo progetto di recupero dell'acqua con dei particolari sistemi di filtraggio tali da non dover adoperare prodotti per la depurazione delle acque. Stiamo spingendo in quella direzione per renderci nei prossimi mesi autonomi e effettuare un ricircolo completo dell'acqua. Altro elemento è stato quello della minimizzazione dei consumi del gas metano con un recupero del calore effettuato sui forni e in questo caso anche Sacmi è stata di enorme importanza. Negli ultimi anni in ceramica Flaminia si è presentata l'esigenza di investire al fine di migliorare le rese di produzione, migliorare la qualità, migliorare la vita dell'operaio ed ottenere insomma anche una produttività adeguata a quelli che sono i tempi. Quindi con i nuovi investimenti, con il montaggio delle nuove macchine, dell'automazione eccetera la vita dell'operaio è migliorata in quanto la movimentazione manuale dei carichi è diminuita tantissimo e la produttività è aumentata mantenendo un'ottima flessibilità che è quello che fa di ceramica Flaminia il proprio punto di forza. Si è investito su alta pressione per poter cercare di migliorare il prodotto si è investito su sistemi di smaltatura automatizzata tanto da poter mantenere la gamma dei prodotti che avevamo cercando di appunto di migliorare la produttività e la qualità del prodotto. Con la ceramica Flaminia negli ultimi anni abbiamo realizzato una serie di progetti molto importanti e testato soluzioni tecnologiche innovative. Pensiamo per esempio alla tecnologia dell'ultrafiltrazione tangenziale per il trattamento delle acque per arrivare poi per esempio agli effetti estetici del prodotto migliorati e innovati con la decorazione digitale e non per ultimo vanno però ricordati tutti gli investimenti continuativi che la Flaminia ha fatto in questi anni nel senso dell'automatizzazione del processo produttivo in particolar modo colaggio e smaltatura. Dobbiamo dire come Sacmi che siamo realmente molto soddisfatti e orgogliosi della nostra partnership con Flaminia e del successo dei vari progetti che hanno consentito a Sacmi di confermarsi come riferimento tecnologico e impiantistico per tutte le eccellenze del sanitario made in Italy.